Allora, Movimento Giovanile Salesiano, lo dice la parola, un movimento di giovani che sono già qui presenti, arrivano dalle case salesiane, dei salesiani delle figlie di Maria Osigliatrice, oratori, barrocchie, ecco, popolano questo cortile che è il cortile di Don Bosco, il cortile di Valdocco, per unirci intorno a lui, a quello che è il suo sogno, farci santi. Oggi l'MGS Day qui a Valdocco abbiamo la fortuna di avere con noi i genitori di una ragazzina normale ma straordinaria, Giulia Gabrieli, una ragazzina di Bergamo, che pur nella sofferenza o nella malattia è riuscita a testimoniare tantissima gioia, tantissimo amore e tantissima unione con il Signore, in modo proprio straordinario, su di lei ci sono articoli di giornale, un sito, concorsi, allora vogliamo conoscere questa ordinarietà vissuta in modo straordinario e sono qui con noi oggi i suoi genitori, qui a Valdocco, con i giovani di tutta l'ispettoria. Da animatrice all'MGS Day oggi è stato bellissimo ritrovare i volti dei ragazzi che non vedevo da due anni, è stato bellissimo rincontrare quelle vite che ormai un po' mi porto dentro da qualche anno a questa parte, ecco è un'emozione indescrivibile a parole, però vi assicuro che è una cosa bellissima, che si sente dentro. Grazie a tutti!